la lega va veloce del pizza boom tiene il passo aumentare i giri in vista dei playoff e testare gli innesti per l'anno che verrà questo il diktat di rossi stiamo cercando di rinverdendo anche noi quindi non acquista amato giovani rinnovamento quindi partendo però da volti noti daniele amato il quale fa già parte da tempo della famiglia pizza boom a rinfoltire un reparto arretrato che ha bisogno di respirare ho avuto già un passato calcistico con loro conosco quasi tutti e comunque il gruppo è sempre lo stesso tutti affiatati ci teniamo tanto a fare bene sempre io nel mio darò sempre tutto perché è stato scarso però il cuore ce lo metto sempre quello è poco ma sicuro alle porte il derby cromatico che all'andata decretò il ritorno sul trono di Rossi autore di una doppietta la vittoria lanciò la lunga rincorsa ai playoff dei giallorossi tra steverini il presidente messali dal canto suo spera di poter ripetere la dedica speciale dell'ultima vittoria questa vittoria la volevo dedicare a una mia amica che ci sta seguendo in diretta dal Brasile